Buongiorno a tutti, noi ci troviamo alla fine di questa lunga giornata, spero che ci sia ancora la forza e la volontà, ma ne sono convinto di poter arrivare fino al termine di questa breve presentazione di quelli che sono dei dati che non sono ancora definitivi perché il progetto maintenance è ancora in corso. Devo dire che noi abbiamo approfittato di questo vantaggio che possono fornire i progetti di cooperazione trasfrontaliera, quali appunto sono quelli interreg, per poter avere un po' il tempo per fare delle cose che generalmente non vengono mai fatte all'interno di un processo di intervento di conservativo sul monumento. Ve lo prendeci il tempo per studiare, per mettere a punto metodologie che sono poi quelle che nei progetti di cooperazione vengono richieste e che devono essere condivise per cercare di aumentare quello che viene chiamato generalmente la condivisione delle buone pratiche dal punto di vista dell'intervento di restauro e della conservazione. Come dicevo non siamo ancora al punto finale, ma abbiamo già dei dati ovviamente perché il progetto non è ancora finito, chiuderà il prossimo anno all'incirca e quindi ci saranno ancora dei momenti di chiusura, però l'attuale situazione è quella di presentarvi quello che è stato il piano diagnostico, ovvero come abbiamo cercato di affrontare alcune tematiche, alcune problematiche. Cominciamo a considerare sempre che un intervento di conservazione è principalmente un intervento di conoscenza, per quanto possa essere impiegata più o meno la fase analitica di laboratorio o quelle che vengono adesso chiamate analisi non invasive, cioè sono delle analisi che si possono fare sul monumento senza fare nessun prelievo, quindi senza interagire direttamente con il manufatto, questa fase qui è una fase che permette di capire, di conoscere, di comprendere. E' alla base di quelle che sono state molte delle osservazioni che voi avete già visto e già fatto, avete visto, diciamo, rappresentare nelle precedenti dei miei colleghi che mi hanno preceduto e comunque insomma quindi noi adesso andremo a riprendere un attimo alcune di quelle cose, magari entrando un po' più nel dettaglio, cercando di restare però a quel livello giusto di diffusione e comunicazione che deve far capire come la scienza che rappresenta una delle parti più, forse meno conosciute dal punto di vista del ciclo conservativo, si pensa sempre ai restauratori giustamente perché sono quelli che operano direttamente sulle opere, si pensa agli storici che giustamente sono quelli che studiano le opere e quindi ne danno il valore, il senso, le spiegano e tutto quanto, pochi sanno cosa avviene dietro dal punto di vista della conoscenza, ovvero tramite quelli che sono poi i processi di tipo analitico che vengono messi in atto, non solo da chimici comunque perché il discorso è molto più complesso ma poi ne parleremo e le vedremo più avanti. Quindi l'occasione di conoscenza deve passare a Teresa la sua storia, cioè il recupero di quella che è stata la storia, ovvero quelle che sono state le vicende che ha subito il monumento, purtroppo questo non è sempre così facile da ritrovare, non è sempre così facile scoprire sui documenti. Spesso e volentieri le analisi permettono di recuperare anche queste informazioni scoprendo che sono stati usati dei materiali in un certo momento con certe caratteristiche, con certe qualità che sono servite in quei momenti o che erano tipiche di quei momenti, di uso in quei momenti durante la fase di conservazione che un monumento che arriva dal 1500 e noi può aver avuto nel corso dei vari secoli. La composizione ovviamente, lo studio serve a capire come sono fatti, quali sono i materiali, un po' ne avete già sentito, anche alcune domande fatte precedentemente alla mia collega erano proprio rivolte a capire come si arrivava a capire la composizione. Posso già premettere che la diffrazione è stata utilizzata ma questo poi lo vedremo poi avanti in maniera un po' più dettagliata quando faremo le analisi, ma non solo, alcune analisi ci permettono attualmente di attirare fuori alcuni concetti che poi andranno ancora sviluppati e compresi meglio nella chiusura ovviamente generale del ciclo degli studi, compreso poi il rapporto con l'ambiente perché è una cosa che non si pensa mai, tutti andiamo a vedere gli oggetti e non ci rendiamo conto che questi in realtà interagiscono in modo diretto sempre con quello che gli sta intorno, qualsiasi cosa, compreso il fatto che noi arriviamo, cioè molti musei, molte volte, chi di voi è stato di recente alla Cappella di Scrovegni o che ha cercato di entrare al Cenaco Vinciano, sa perfettamente che per prima di entrare deve passare un certo numero di step, di passaggi che sono quelli che riguardano una specie di decontaminazione, ovvero deve far sì che quello che lui può portare dentro sia almeno possibilmente nocivo a quello che chiaramente l'ambiente può sopportare, il monumento può sopportare in quel momento. Chiaramente stiamo parlando di una Cappella in piena campagna, questa non sarà una cosa possibile, però fa parte un po' quindi del nostro scopo quello di mettere a punto il metodo, un metodo che dovrebbe dare informazione e sulla conoscenza e sul comportamento dei materiali in modo tale da poter poi pensare che questo metodo possa essere ribaltato vicenevolmente sulle varie Cappelle, la seconda è chiaramente dei problemi che le varie Cappelle hanno e devo dire che la Cappella numero uno, questo appunto dell'Eden è una Cappella particolarmente problematica che quindi è stata proprio scelta proprio per le sue complessità interne per poter pensare di poter dare, di arrivare a creare una metodologia di approccio che sia quella più possibile da utilizzare anche poi in altre situazioni. Bisogna cominciare a pensare anche che se l'opera d'arte è fatta di gesti, ha emozioni che sono date dalle cose che noi vediamo, insomma da quello che è la sua espressione, in realtà poi alla fine è composta da materia. La materia subisce delle trasformazioni nel tempo, come le subiamo noi, ma le subiscono le cose in casa di tutti i giorni, le cose che abbiamo nella nostra casa, tutti gli oggetti invecchiano, alcune volte poi arriviamo al punto di averli cambiare, anche i monumenti invecchiano, invecchiano per il loro uso, per la loro funzione, per la loro esposizione, per il loro modo di essere, diciamo, anche fruiti in maniera più o meno evidente dal pubblico, o per come sono cambiate anche le volontà e gli interessi delle letture del monumento nel corso della storia. Quindi il concetto è quello che la scienza può servire a arrivare a questo nella sua conoscenza, a conoscere anche il comportamento dei materiali, che tipo di interazione questi hanno con l'ambiente, di verificare i materiali moderni, come si comportano a loro volta, come possono interagire con il materiale antico e successivamente il nuovo complesso di materiali dati dal nostro intervento, da quello antico o dagli interventi fatti negli anni passati, per non dire nei secoli passati, con i materiali che hanno creato dei problemi, possono creare ancora o essere modificati o essere risolti attraverso il suo comportamento con l'ambiente. Questo è il concetto un po' di compatibilità, che non è una compatibilità che riguarda solo i materiali, perché in questo settore spesso c'è un po' l'equivoco, si parla di compatibilità pensando che si debba solo pensare se un materiale è chimicamente compatibile con l'altro, in realtà la compatibilità è un concetto molto più esteso nella conservazione, che va dalla compatibilità che l'oggetto può avere anche con l'ambiente, tipo appunto il clima e tutto quanto, poi alcune cosette carine sono venute fuori dall'analisi, ve ne parleremo, ma anche la compatibilità dei metodi di intervento, cioè se il metodo di intervento agisce in maniera più o meno aggressiva nei confronti dello sporco e se questa aggressività può essere un rischio o meno, diciamo, nei confronti del manufatto che noi dobbiamo salvaguardare. Ogni volta che noi facciamo un'azione su un oggetto, anche solo spolverarlo, cioè cose molto semplici, quindi sappiamo che noi interagiamo con quell'oggetto e quindi stiamo modificando in parte il suo comportamento con l'ambiente. Questa è una cosa che va tenuta in considerazione, che può riguardare non solo ovviamente il Sacrimonti Varallo, ma riguarda un po' tutto il nostro patrimonio, compreso quello che c'è nelle chiese, soprattutto quello che c'è nelle chiese, che è lasciato chiaramente spesso lentieri alla buona volontà e al buon comportamento di molte persone che ci credono e che ci dedicano a questa cosa e che effettivamente ogni tanto devono capire che quando intervengono, quando anche fanno un gesto semplice che può sembrare banale, in realtà si sta interagendo con l'oggetto e quindi si può creare un problema. L'approccio che noi abbiamo voluto dare allo studio della cappello è un approccio che è stato diviso in varie fasi, noi l'abbiamo diviso in quattro fasi, in realtà poi chiaramente il sistema è molto più articolato e tutto quanto viene chiaramente frammisto. Alcune di queste fasi le avete già viste, le avete già ritrovate nelle presentazioni fatte precedentemente, cioè la studio della cappello sta fatta dai restauratori. È un passaggio fondamentale perché a fronte di un'analisi ci deve essere una domanda, non esiste l'analisi che risolve tutti i problemi, l'analisi è un concetto che deve essere molto mirata, se c'è una domanda si ha una risposta, se si fa una domanda sbagliata si ha una risposta sbagliata, se la risposta è sbagliata l'intervento rischia di essere sbagliato, quindi questa interazione fra il mondo dei restauratori, cioè di coloro ovviamente che hanno l'opportunità e la capacità di stare attorno all'oggetto, di guardarlo, di entrare fino nel millimetro ogni tanto dalla loro sua composizione, è importante per noi per avere poi appunto il quadro delle domande, delle domande che ci possono poi portare a dare le risposte corrette per poter fare un buon intervento. Poi chiaramente a fronte di questa lettura, come ha detto prima anche la mia collega Daniela, a fronte di questa lettura arrivano delle domande, come mai è successo questo, quali sono i problemi che sono accaduti e viceversa, quindi bisogna poi appunto fare una valutazione delle possibili cause che sono associate, che quindi possono essere collegate alle tipologie di alterazione. Il passaggio è molto semplice, viene fatto, lo spiego per chiaramente chi non è molto dentro del settore, viene fatto prima con una lettura che deve essere la più oggettiva possibile, cioè semplicemente descrivendo quello che si vede. Ho visto che questa cosa è rossa mentre quella parte vicina è blu, è un esempio molto semplice, mi sono tanto per capire. Poi questa qui è l'osservazione, a questo punto viene la domanda perché è diventata rossa o perché è diventata blu, che viceversa, seconda chiaramente di qual è il tipo di alterazione. E lì subentra quindi ovviamente il diagnosta che propone una serie di possibili soluzioni dal punto di vista per integrare questi dati. Dobbiamo tenere conto che le cappelle stanno in un ambiente, come ho detto prima, completamente aperto e quindi il problema non è solo andare dentro e guardare come stanno le statue, come stanno gli oggetti che sono all'interno della cappella. Per un diagnosta la visione generale non può che essere completa o olistica, come viene generalmente detto, ovvero prendere l'intero sistema. Quindi il concetto, prima quasi di entrare, è opportuno che a fronte di una problematica di tipo conservativo uno comincia a guardare la cappella dove è messa. Questa è una cappella che sta su un pianoro, che è stato costruito, su un abbasamento che è stato costruito, però è messa a ridosso di un decliveo, quindi c'è dell'acqua che scende giù, c'è un strato, c'è un passaggio, quindi c'è una specie di sentiero, dice che però è tutto messo, è tutto fatto con delle pietre, quindi se noi troviamo dei problemi di umidità, l'acqua da dove arriva? Ma arriva da lì? No, ma il tetto come sta? Quindi andiamo a vedere com'è il tetto, il tetto, sì, questo è un tetto, però sotto il tetto c'è a sua volta un intercapedine, perché c'è una specie di, sì, di soffitte, insomma, c'è uno spazio che qui non è direttamente collegato col tetto. Abbiamo visto stamattina nella spiegazione anche di Maurizio Gomez la descrizione del tempietto che è fatto davanti, quindi ha tutta una serie di problematiche, in più guardando bene, in effetti uno si accorge che c'era una finestra o una porta, un qualcosa messo ad una certa altezza, soprattutto nel lato destro, guardando chiaramente la cappella di fronte. Questo significa che c'è stato un cambiamento nell'uso, è stata fatta una modifica che ha alterato anche il modo di comportarsi del clima all'interno dell'ambiente, in più l'ambiente è chiuso, a una grata, con delle cose in legno. Cioè, tutta questa lettura, tutto questo insieme di dati fanno parte dell'approccio diagnostico, che deve cominciare a ragionare dall'intero del sistema completo che sta intorno al monumento, per entrare poi lentamente e arrivare chiaramente a cercare di capire quali sono le relazioni che questo sistema, questo ambiente genera nei confronti poi dei materiali che sono all'interno della cosa. Dopodiché si passa alla terza fase, che è quella dei campionamenti, ovvero sulla base, chiaramente alla mappatura, dell'alimentazione, delle domande e tutto quanto, della scelta di quelle cose, si passa a fare l'analisi. Le analisi partono con delle analisi, come dicevo prima, non invasive, tipo quelle di analisi microclimatico. Cosa significa? Andiamo a capire come l'ambiente interno si comporta rispetto all'ambiente esterno, cioè cerchiamo di capire qual è il grado di reazione che ha l'ambiente con quello che è il contesto in cui vive il monumento. Questo poi si possono fare delle misure di umidità fatte in vari modi o altro genere, poi si può arrivare anche, per conoscere meglio il materiale, per finire per comprendere, a trovare che ci sono, sulla base della mappatura dei restauratori, come avete visto, nelle due precedenti presentazioni, una serie di cose strane, e che queste cose qua vanno capite perché sono stati interventi fatti, senz'altro, nell'epoca passata, e la domanda diventa, hanno prodotto o meno dei problemi? Sono da mantenere? In che modo sono da mantenere? Quali sono i problemi che hanno prodotto? E allora lì si inizia una seconda fase di approfondimento, che ha riguardato i campionamenti di materiali, che sono stati portati e sono stati fatti e portati anche in laboratorio, o chiaramente è stata fatta l'analisi, appunto, mediante XRD, che sarebbe appunto la diffrazione di Regis, che era la domanda fatta precedentemente, l'FTR, cioè l'infrarosso, la spettrofotometria, l'infrarosso, i trasformati di Fourier, che è una tecnica molto interessante, perché riesce a compendiare, sotto molti aspetti, l'analisi difratometrica. Entrambe le tecniche hanno, anche questo è un altro discorso sulla diagnostica, bisogna un po' capire che non è che esiste il metodo che uno, cioè non siamo, purtroppo in NCIS non funziona molto bene, almeno non è il nostro caso, non riusciamo a prendere un pezzettino, a mettere un posto e avere anche il colore degli occhi di chi ha fatto il dipinto o cos'altro, non è così. Le analisi hanno dei limiti, le tecniche analitiche hanno dei limiti, incrociare le tecniche analitiche è importante, la diffrazione è capace di dare la composizione cristallina, all'infrarosso riesce a dare anche, in molti casi, la composizione di alcuni composti organici, alcune cose che si vedono bene all'infrarosso non si vedono nella diffrazione, tanto per capire un po' la complessità, adesso non entro nell'ottica delle tecniche, ma per dare un po' il quadro della complessità a volte con cui ci si trova davanti, ed ecco perché non abbiamo già le risposte adesso, perché ancora molti dati vanno proprio incrociati, vanno messi, vanno verificati fra di loro. È stata usata poi la cromatografia ionica, che è una tecnica di separazione dei sali, cioè permette di induare le varie fasi saline nei loro componenti principali. Sono cose che si trovano anche in diffrazione, anche in infrarosso, ma in forma diversa, e ognuno di queste analisi aggiunge un piccolo tassello, un piccolo spunto in più, che permette chiaramente di aumentare il grado di conoscenza e quindi di comprensione. Poi sono state fatte delle sezioni stratigrafiche, o quantomeno sezioni lucide stratigrafiche, che sono in realtà nient'altro che un modo di leggere il monumento nella sua stesura, diciamo, nelle sue sovrapposizioni, ovvero partendo dall'originale fino alla superficie. Questo per questo ci serve, ci è servito, ovviamente, a capire dove i restauratori avevano l'ipotesi, o quantomeno il dubbio, che vi fossero delle sovramissioni. Quindi per poter vedere un attimo se gli strati, uno sopra l'altro, come si comportavano, e non solo, in base a questo, attraverso altre tecniche che un po' più elaborati, tipo la microscopia, scansione, o il RAM, anche se sono altre tecniche, diciamo, di laboratorio, poter poi andare a trovare strato per strato la composizione di questo materiale, in modo da capire cos'è, a volte anche dare risposte che non sono solo di restauro, ma anche di storia, perché alla fine l'uso dei materiali spesso è cambiato nel corso dei secoli, e la possibilità di trovare un certo tipo di materiale rispetto a un altro tipo di materiale può addirittura aiutare lo storico, in questo caso, a identificare il momento in cui può essere avvenuto un accambiamento, o un momento, quantomeno, un'alta limite prima della quale non poteva essere avvenuto perché quel materiale non si usava, insomma, ecco, tanto il concetto è poi questo. Chiaramente poi c'è una quarta fase, che è quella che stiamo vivendo in questo momento, che è quella della correlazione dei dati, dove stiamo mettendo in confronto quelli che possono essere la composizione dei materiali e quelli che sono i prodotti di neoformazione. I prodotti di neoformazione, per capirci, sono quei prodotti, si chiamano così, perché sono quei prodotti che si formano per la trasformazione del materiale originale o per l'aggiunta di qualche cosa che arriva dall'esterno in funzione di quelli che sono i problemi di conservazione che il monumento ha nel suo insieme. E tutto questo va visto poi appunto con quello che abbiamo detto prima, cioè bisogna anche prendere tutti i dati microclimatici, ovvero tutto lo studio fatto per capire come cambiamo le temperature, come cambia la temperatura e l'umidità sulle statue, intorno ai muri, dalla parte bassa alla parte alta del monumento, in confronto a quello che avviene all'esterno, per comprendere effettivamente se ci sono dei lati più o meno esposti o se quei lati che noi vediamo più alterati sono così, perché è l'esposizione che li ha portati ad essere così, oppure se invece sono semplicemente delle situazioni che vanno viste in un'altra ottica, in un altro modo. Tutto questo poi chiaramente perché la condizione climatica ambientale, ovvero il comportamento, poi il grado di umidità, la temperatura, il passaggio del ciclo di inverno e estate, cioè la primavera, l'autunno, che sono i momenti più critici di transizione per quanto riguarda il comportamento dei materiali, se questi momenti sono momenti che possono essere sopportati dal punto di vista della compatibilità anche dei materiali che noi pensiamo di voler utilizzare perché abbiamo avuto delle esperienze, perché abbiamo della letteratura, perché stiamo facendo chiaramente degli studi in merito e quindi stiamo scegliendo un attimo queste soluzioni. Ecco, tutto questo fa parte del ciclo del piano della diagnostica che ha riguardato la cappella numero uno. Entrando un po' più nel dettaglio, diciamo adesso quello che abbiamo fatto nella cappella, appunto la fase critica, come ho detto, è stata già un po' presentata, che ha riguardato l'analisi tecnica di esecuzione, la documentazione grafica, i campionamenti, la scelta dei campionamenti, dove andare a campionare e soprattutto i documenti d'archivio. La cosa però importante per quanto riguarda il processo di conoscenza dal punto di vista della diagnostica o quantomeno dell'analisi per la conservazione è la mappatura dello stato di conservazione. Questo è fondamentale. È quasi pensare che è come se voi andaste da un medico senza avere un'analisi e pretendeste avere già la diagnosi. Insomma, non è proprio possibile. Chiaramente bisogna fare tutto. La prima analisi la fanno appunto i restauratori, con la loro lettura del monumento, in cui identificano le varie parti. Dopodiché, a questo punto, sulla base di questa mappatura, che è la fase principale, noi facciamo delle ipotesi sulle cause che possono essere noi insieme con loro. Chiaramente avanziamo una serie di ipotesi sulle cause e in base a quello, come abbiamo visto, è partito il piano di diagnostica che vi ho già un po' dettagliato precedentemente. Allora, alcune cose sono già state fatte nel tempo, perché per fortuna l'interesse verso la conservazione di queste cappelle è sempre stato molto alto. Tutto questo chiaramente ha poi fatto parte nell'ottica giusta che nel tempo molte cose sono cambiate, molte tecniche sono evolute. Quindi noi dobbiamo apprendere però da quello che è già stato fatto, da quello che sono state un po' le conoscenze pregresse, cercare di capire se quello che è stato visto all'epoca è ancora così, quindi se è rimasto quel problema, se non è stato risolto, o se invece chiaramente è cambiato qualche cosa o se le nostre tecniche che adesso abbiamo sono un po' superiori, fra virgolette, perché la tecnologia per fortuna ci aiuta ed è avanzata, rispetto ad allora per poter capire meglio quello che si cercava con la tecnica precedentemente fatta. Una di queste, per esempio, sono state una serie di analisi anche di valutazioni, noi sappiamo che il tetto a un certo punto è stato rifatto, sappiamo che il tetto aveva avuto una perdita, abbiamo visto che c'erano dei percolamenti, ora c'è da capire se e come mai sono arrivati in certi punti o non in altri, insomma questo è un po' il quadro con cui si legano questi dati fra di loro. A seguito comunque di quello che già conoscevamo, delle valutazioni che abbiamo fatto, abbiamo poi deciso che il problema grosso sembrava che uno dei problemi maggiori, e quantomeno sulla base, avrete visto anche il lavoro fatto sul tacchino, è sensato l'umidità. Abbiamo una serie di materiali molto diversi all'interno, questo è un problema, andiamo dai capelli a chiaramente gli stucchi in gesso, abbiamo il cotto, abbiamo della policromia del colore, abbiamo del metallo in alcuni perni, abbiamo del legno in alcuni perni, abbiamo quindi una serie di materiali che hanno tutti i comportamenti diversi, semplicemente al cambiamento dell'umidità interna di un ambiente. E dal primo dato che abbiamo acquisito guardandoci intorno a quella zona, era che vi fosse molta umidità. Allora la domanda è da dove arriva questa umidità, perché alla fine l'umidità in molti casi viene facilmente anche riscontrata, quando ci sono dei fenomeni molto evidenti, quello più evidente viene chiamato risalita di capillare, che lo vediamo spesso e volentieri anche nei nostri muri, sono quei fronti che si formano ad un certo punto su un muro, in cui si formano dei sali e il materiale sotto sta più o meno bene, sopra sta più o meno bene, ma dove ci sono questi sali cassa giù un sacco di materiale, quello lì è un fronte di risalita capillare. Cosa che noi non abbiamo trovato all'interno di questo monumento. Questo cosa significa? Che non c'è umidità che viene dal basso, quindi l'umidità viene tutta dall'alto, può anche essere, perché no? L'ambiente è chiuso, è una specie di scrigno molto, come si dice, quasi sigillato, in maniera completa ovviamente, però quindi l'aria può ristagnare, quindi potrebbe essere una situazione, i materiali che ci sono, tipo il gesso, tipo la ceramica sono materiali che assorbono facilmente l'umidità e quindi possono acquisire umidità dall'aria, quindi possono accumulare umidità nel tempo e quindi poi possiamo trovarci ad avere dei dati. Però questa lettura non è un dato scientifico, è un dato, è una lettura, è un'interpretazione. Occorre avere una risposta un po' più oggettiva, cioè una risposta che sia scevra dalle nostre capacità, dalle nostre conoscenze, dalle nostre esperienze, perché alla fine ogni monumento parla per se stesso in maniera univoca. E quindi per capire se c'era questa presenza, diciamo, di umidità, abbiamo pensato di coinvolgere il Politecnico e soprattutto il professor Comina dell'Università degli Studi di Torino, scusate, che si è occupato di fare una tonografia elettrica della zona per poter appunto capire se c'era, quali sono, diciamo, poi la vedremo perché entriamo in dettaglio, quali sono un po' le caratteristiche, diciamo, del terreno che sta intorno alla cappella. Questo è quello che vedete, come funziona il sistema. Il sistema è molto semplice, in realtà si vengono messe degli elettrodi e poi si fa misurare il passaggio di corrente. Chiaramente il passaggio di corrente che c'è fra un elettrodo e un altro è legato ad una serie di fattori che sono corrispondenti a quelle che sono, diciamo, la composizione del terreno. Un terreno più denso porterà la corrente in un certo modo, uno meno denso in un altro, l'acqua in un altro modo e via discutendo. In questo modo, devo dire, è una tecnica molto utilizzata in archeologia perché con questa tecnica cercano, a volte, in alcuni scavi di scoprire le presistenze di muri o di parti, diciamo, di costruito sotto il terreno prima di affrontare lo scavo. In questo caso, in realtà, da noi è stata utilizzata proprio per questo, quello dicevo prima, perché la sua capacità anche di individuare quelle che possono essere, diciamo, le presenze di umidità all'acqua perché il movimento della corrente elettrica all'interno dell'acqua rispetto al terreno chiaramente è diversa. Questo qui, quello che vedete, è la mappa di dove sono stati messi tutti i sensori, quindi per la misura, come vedete, non è una misura molto semplice, fra virgolette, a richiedere una certa anche organizzazione, insomma, oltre che una serie, diciamo, di strumentazioni particolari. Dopodiché, chiaramente, vediamo che nei colori rossi e blu viene riportata semplicemente quella che è la resistenza del terreno che sta intorno, ma questo poi lo vedremo, dovete pensare che comunque a sinistra noi stiamo andando verso la zona senza terreno, cioè dove finisce il basamento, quindi dove chiude poi la parte del supporto della nostra, diciamo, cappella. Ma la cosa che è venuta fuori è veramente la parte più interessante. Eccola qua. Questo vedete adesso, questa qui la tomografia cosa significa? Significa che noi abbiamo la possibilità di andare strato per strato a capire cosa succede, cosa c'è sotto il terreno della cappella. E la prima cosa che vediamo è che a tre metri e mezzo sotto il terreno, sotto la cappella, c'è quell'area blu, quella azzurra che voi vedete, molto intensa, e quella lì è la presenza dell'acqua. Quella è una pozza d'acqua, è un luogo dove c'è un accumulo di acqua. Chiaramente stiamo guardando, state attenti, non stiamo guardando una cisterna, stiamo guardando una fetta in questo momento. Quindi per poter capire come questa pozza d'acqua cambi all'interno, diciamo, della nostra tuttura, dobbiamo andare a vedere anche l'altra foto vicino che parla a due metri e mezzo. In un'area di un metro, vedete, quella pozza diminuisce. A questo uno comincia a dire, beh, se diminuisce, probabilmente poi non arriva fino alla cappella se il terreno è drenante. Questo è un altro discorso, un altro studio che magari avremmo dovuto fare, ma dopo vediamo, in base ai risultati, voi vedrete dove siamo invece arrivati. Ecco che dopo un metro e mezzo la situazione si porta più verso i muri, ma non c'è più, la pozza quasi sparisce, restano i muri, allora può anche essere che il muro sia arrivato fino alla pozza sottostante e in questo momento faccia da, come si può dire, da pompa aspiratrice, perché sopra c'è l'aria, l'aria è meno ricca dell'umidità che c'è sotto perché chiaramente stiamo parlando di acqua allo stato puro e quindi l'aspira in alto con quello che è il famoso fenomeno che vi ho detto di vista di età capillare. Arriviamo ad un metro di profondità e vediamo che in effetti quest'acqua qui comincia a diffondersi in maniera sempre un po' più omogenea lungo tutta la parte del materiale, ma le cose più interessanti sono quelle, diciamo, che poi troviamo a 50 centimetri sotto il livello e a livello zero, cioè a livello dove sta il pavimento praticamente della cappella. Come vedete a 50 centimetri, cioè mezzo metro sotto il livello, si vede una piccola concentrazione di acqua ancora sotto la zona della parte della facciata praticamente all'interno del protilo della cappella e a livello zero vedete che l'umidità è diffusa in maniera continua e omogenea. Ora, in 50 centimetri è cambiato tutto, cosa significa? Questo è il discorso che stiamo ancora cercando di capire, cioè la domanda è abbastanza chiara adesso. Quel sistema che abbiamo visto in questo momento drenante, ovvero che sta aspirando sull'acqua, si sta prendendo quell'acqua lì sotto, la sta portando a livello e poi nella cappella con uno studio che stiamo facendo su cui ci siamo concentrati con i restauratori appunto per capire se i trattamenti avvenuti nel tempo abbiano creato una specie di tappo sulla superficie che ha impedito la traspirazione in questo momento appunto questa aspirazione quando arriva lassù poi si espande perché non può andare oltre, oltretutto con alcuni materiali che poi vedremo comunque che abbiamo trovato proprio nelle analisi fatte sempre del materiale sotto le basi, sotto le statue, abbiamo trovato materiali molto igroscopici appunto gesso tipo altri materiali questi qui si assorbono molto l'acqua quindi questi si stanno tirando dentro l'acqua la stella stanno portando avanti questo è un tema in ogni caso c'è un problema c'è quella grande pozza d'acqua quella grande pozza d'acqua chiaramente è una delle prime indicazioni che abbiamo dato andrà portata via è molto probabile che sia legata al fatto che il sistema idrico non stia funzionando bene cioè c'è da fare un'ispezione a capire se il sistema dell'ascolo legato alle gronde e tutto quanto che c'è all'esterno sia funzionale che non abbia perdite o se invece addirittura il problema arrivi dal percoramento che può venire dal fatto che siamo a metà di una come ho detto di un piccolo declivio per cui tutta l'acqua viene raccolta a monte viene poi incanalata all'interno del terreno raggiunge la parte rocciosa sottostante e da lì migra fino a trovare un punto dove spiana e che a quel punto lì si ferma e fa il laghetto che avete visto praticamente nella parte sottostante ecco queste cose qua sono le cose ancora in file discussioni ma che rappresentano un po' già un elaborato di una valutazione del fatto che c'è l'umidità di sicuro ha una provenienza anche anche da parte diciamo della parte sottostante del terreno e quindi che è un problema di soluzione che andrà risolto in fase diciamo costruttiva il monitoraggio climatico come vi ho appunto accennato è una cosa che noi stiamo facendo a vari livelli qui vedete una mappa una piantina diciamo della della cappella dove si vedono i sensori che sono stati utilizzati e quelli qua che sono messi quelli che sono vicini sono stati messi a più altezze sono stati messi su delle statue ma anche lungo tutta una parete in questa zona qui in particolare questo sensore qui è stato messo davanti qui perché questa è la porta di ingresso in cui si entra per fare la manutenzione e dove stiamo entrando anche adesso noi appunto per gli interventi di conservazione che sono in corso in questo momento quindi stiamo anche cercando di capire come quella porticina possa influenzare volente o nolente l'ingresso dell'aria e certi valori di migrazione dell'umidità perché? perché in quella zona abbiamo visto che in effetti l'intorno appare un po' un po' deteriorato adesso mi pare che la foto sia questa qui che vedete qui in alto dove in alto sulla sinistra dove effettivamente si vedono delle problematiche un po' più avanti in realtà non proprio lì ecco queste zone qua sono quindi tutto questo è legato a quel fattore lì o è legato ancora al fatto che anche lì è arrivata l'acqua che pesca dalla nostra pozza sottostante e poi chiaramente il sistema l'assensore esterno è messo nella foto di destra che vedete è messa sulla griglia dell'inferiata che fa parte della finestra che ci permette di avere la temperatura o l'umidità esterna senza l'apporto diretto del sole che chiaramente falserebbe di molto un po' le situazioni questi dati qua fanno parte di un ciclo che in questo momento avrà quasi un anno non è ancora forse un anno di 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 quindi non sono ancora come si dire non sono ancora solidi per dare già delle risposte perché perché i cicli vanno visti in tempi molto lunghi generalmente una una campagna di analisi dal punto di questo punto di vista dura all'incirca un anno quanto meno un anno perché deve prendere di sicuro le due stagioni più importanti ovvero la primavera e l'autunno e poi chiaramente le altre stagioni però pensate che tutta questa cosa non è che sia risolutiva perché quell'anno può essere un anno particolare io personalmente mi occupo ormai di analisi climatiche da un sacco di tempo vi posso dire che nell'87 si cercò di fare lo studio climatico ambientale sul teatro romano di Aosta e ad Aosta non nevicò io che volevo misurare il clima il clima e le condizioni ambientali di un monumento esposto in un ambiente alpino con un certo clima di freddo soprattutto neve eccetera eccetera mi sono trovato un anno per cui ho dovuto allungare addirittura quella sperimentazione di un anno per avere dei dati che fossero come si può dire capaci di dare delle risposte perché altrimenti prendo un anno in cui non piove un anno che piove troppo rispetto agli altri anni io tiro fuori delle conclusioni che non sono corrette dal punto di vista poi della restituzione ovviamente del dato del dato analitico e quindi non sono la vera scienza della conservazione insomma sono dei dati ma non vanno presi un po' con le pinze tanto per capire chiaramente le sonde le abbiamo messe anche sugli oggetti perché? perché gli oggetti presentavano dei forti fenomeni di alterazione come avete visto sulle superfici per cui chiaramente abbiamo provato a capire come se effettivamente l'umidità che trovavamo vicino al muro era la stessa che c'erano degli oggetti ovvero se c'era anche una condizione di iso isobara da punto di vista di pressione inteso come pressione in questo momento di evaporazione ovvero della presenza di vapore all'interno dell'aria che facesse che quella situazione fosse tutto sommato stabile non avesse grosse modifiche questo da un punto di vista da certi punti di vista può essere un vantaggio da altri può essere uno svantaggio lo svantaggio principale è generalmente dovuto alla crescita di tipo biologica cioè una situazione di molta stabilità con alta umidità temperature di un certo tipo di molta stabilità appunto dal punto di vista diciamo dei movimenti d'aria rende la crescita biologica molto facile non è un problema che abbiamo visto in maniera così esaltante all'interno della cappella quindi in realtà anche se c'è questo problema non sta incidendo molto fra virgolette sulla situazione interna della cappella comunque è un dato che chiaramente noi dobbiamo prendere in considerazione perché nella proposta poi finale di quali possono essere i sistemi e i metodi di intervento ho ovviamente necessità di avere anche questa informazione quindi diciamo che c'è una variazione abbiamo notato ovviamente ma ce l'aspettavamo però l'abbiamo misurata cioè avere anche l'idea di cosa può succedere e avere la misura sono due concetti molto diversi nella diagnostica uno è sapere che sì guarda qui c'è la finestra di sicuro qui l'umidità cambierà perché arriva l'aria da fuori rispetto al basso e sapere che questo cambia di 1 2 3 10 20% sono due concetti molto diversi quindi sapere che un fenomeno esiste è una cosa misurarlo è la parte importante che permette di avere poi la possibilità di meglio comprendere l'andamento del nostro sistema questo abbiamo capito quindi che ci sono dei dati termici dei delta termici dei salti termici in altezza e che però il sistema ha una certa inerzia termica sulle sue condizioni diciamo che abbiamo fatto poi il calcolo della temperatura di rugiada la temperatura di rugiada è quella che poi in realtà tutti noi amiamo la mattina quando andiamo in campagna e troviamo la brina sopra la mattina presto troviamo la brina guarda che bella la brina ecco quella lì è nient'altro che la fase di condensazione dell'umidità che c'è nell'aria su una superficie che è diventata più fredda che in quel momento è la superficie di una foglia o di una pianta su un monumento questo significa che acqua che entra nel monumento quindi questo è un problema anche questo dal punto di conservazione perché l'acqua poi innesca una serie di problemi che vedremo adesso con le altre analisi che abbiamo fatto e quindi il concetto è di capire appunto come questa cosa interagisce e se questa cosa qui può portare alla migrazione dei sali che possa aver condotto alla situazione di degrado per esempio del tacchino ovvero il continuo assorbimento e l'assorbimento d'acqua la migrazione di sali dall'interno alla superficie fa sì che questi sali vengono si muovono finché sono dentro l'acqua come nelle vostre rubinetti tutti voi avete i sali nell'acqua però alcuni di voi poi ogni tanto hanno il problema del calcare perché perché quando l'acqua evapora restano i sali i sali cristallizzano e come credono il calcare su una superficie pensate quando questo calcare si forma all'interno magari non il calcare è un altro sale ovviamente ma si forma all'interno di una struttura di un poro e lo fa proprio esplodere lo fa scoppiare e lo rompe creando chiaramente i problemi di conservazione non da poco nella fase di campionamento vi presentiamo alcuni degli esempi che abbiamo portato avanti fino ad oggi siamo andati a verificare un attimo quello che dicevo appunto la stratigrafia un po' un attimo di tutte le nostre delle nostre cose le tecniche le ho già appunto dette prima abbiamo fatto quindi abbiamo cercato di capire qual è la composizione mineralogica diciamo degli elementi in alcuni casi abbiamo cercato anche di capire la temperatura di cottura della ceramica tramite appunto sia le analisi con la diffrazione dei raggi X perché quella definisce le fasi di cambiamento in cui la ceramica passa da un'argilla a qualcosa di cotto questa qui chimicamente genera delle modifiche che si possono trovare e che sono dipendenti al tipo di argilla utilizzata cioè se c'è un'argilla calcare o un'argilla silicatica tanto per farne esempio quindi addirittura non dico a definire già i luoghi di provenienza ma quantomeno a creare degli ambiti quantomeno di come si dice di raccolta dei materiali utilizzati o luoghi di provenienza la tecnica che usiva delle decorazioni quindi se appunto erano state fatte con delle analisi che ci permettevano anche di capire dove c'erano le decorazioni se sopra vi era stato aggiunto qualcos'altro e i materiali di intervento ovvero usati nelle esperienze precedenti qui abbiamo alcuni esempi adesso stiamo entrando in cose molto tecniche ma penso che possa essere interessante immaginatevi di essere un po' a vedere quelle trasmissioni che vi portano fino ad entrare lentamente siamo partiti dal tetto e stiamo entrando lentamente all'interno dell'oggetto quindi è una cosa che è il percorso poi pratico che noi facciamo quotidianamente questa cosa qua da cui abbiamo visto che in realtà lo strato sottostante quello ovviamente più basso che è chiamato lo strato 1 è di natura filicatica e anche del carbonato di calcio quindi è essenzato della terracotta giudicare dall'aspetto questo poi dall'aspetto visivo e poi abbiamo sopra un altro strato un po' più un po' più bruno che invece rappresenta anche questo sempre probabilmente ancora della parte della ceramica ma qui spunta qualcosa di nuovo spunta della biacca la biacca è un pigmento è uno dei pigmenti che vengono utilizzati nell'antichità per dipingere quindi significa che stiamo già arrivando al lato di intersezione fra la parte diciamo di ceramica e quello che è stato il primo trattamento che venne dato sopra per fare la preparazione alla stesura del colore e sì perché dovete pensare che la ceramica ha un colore rosso più o meno intenso a seconda della temperatura di cottura la terracotta e queste ceramiche quanto meno è chiaro che se io non metto sopra uno strato che nasconda questo colore io ogni colore che metto sopra avrò difficoltà perché avrò chiaramente la possibilità che la parte sotto sottostante dia un colore cambi muti il colore sottostante e qui gli artisti stendevano un bianco molto coprente un bianco che è fatto a base di piombo che è una cosa che fa sì che sia un bianco che non ha quasi trasparenza di modo che isolavano questo bianco dal resto dalla parte sottostante e quindi potevano permettersi di usare sopra qualsiasi colore loro volessero per dare poi il risultato che avevano interesse e una di fra le altre cose è quella che abbiamo trovato sopra abbiamo trovato che oltre alla biacca abbiamo trovato che c'è del migno e del vermiglione il vermiglione alcuni lo chiamano cinabro comunque il concetto noi lo chiamiamo vermiglione perché è un concetto storico nel senso che il vermiglione è un pigmento sintetico già abbastanza antico che si usa già nel medioevo e lo difendiamo dal cinabro che invece era usato molto in epoca romana e che aveva provenienze molto illustri era un pigmento molto caro molto costoso che arrivava dall'Afghanistan addirittura quindi seguiva le vie della seta tutte queste cose qua quindi era un problema dal punto di vista economico che è stato risolto creando il pigmento artificiale poi nel corso della storia quindi che viene chiamato appunto il vermiglione dopodiché sopra ci sono altri strati uno strato un po' brunastro che in questo momento stiamo cercando di capire se è uno strato a sé o se invece è parte rimescolata diciamo delle case sottostanti e poi sopra uno strato arancio con dentro guarda un po' zinco bario cromo più il vermiglione più ossidi di ferro ora questo pone già un problema questo siamo in una fase fra rigolette scusate di ritocco ovvero di un intervento successivo perché lo zinco e il cromo sono pigmenti moderni che vengono utilizzati nei momenti moderni quindi probabilmente siamo andati a campionare una zona dove abbiamo già appunto capito che c'è stato un intervento di restauro passato che ha già utilizzato pigmenti che sono un po' più moderni mescolati comunque con altri un po' più classici tipo appunto l'ossido di ferro e il vermiglione come si era detto diciamo che dallo spettro si è anche visto negli strati appunto fra l'1 e il 2 la presenza di olio e di anche una sostanza proteica di altre sostanze organiche insomma quindi con l'uso all'infrarosso come avevo detto prima siamo stati in grado di capire meglio che ci sono stati usati dei leganti in questo caso di tipo oleoso o proteico a seconda degli strati a seconda del tipo di pigmento perché a volte alcuni pigmenti usavano più un materiale rispetto a un altro perché favorivano meglio sia il comportamento diciamo del legante sia chiaramente poi la restituzione plastica di come si poteva poi estendere questo pigmento sulla superficie qui abbiamo una tabella non entrerò molto nel dettaglio in cui vi presentiamo tutte le le analisi che abbiamo fatto sulle varie parti delle zampe sugli oggetti e tutto quanto dove comunque la cosa che voglio sottolineare in maniera un po' forse un po' più rilevante è la presenza in particolare di gesso in alcuni casi chiaramente queste parti qua fanno parte di interventi di restauro dove sono andati degli stucchi o di stuccatura a chiudere probabilmente delle fasi costruttive e cose di questo genere tutto il resto fa parte un po' di cose che più o meno ci si aspettava da un punto di vista poi pratico ma anche questo chiaramente rappresenta per noi sempre un piccolo problema perché l'integrazione di questi dati dovrebbe essere legata al concetto storico o al concetto di creazione del monumento in quel momento ovvero quando si può capire quando è stato fatto il monumento quali sono state le sue caratteristiche e se sono fasi successive questo potrebbe spiegare perché il cotto di una statua è diverso dal cotto di un'altra statua per esempio questo però fa parte ancora degli studi della parte di integrazione per gli studi che stiamo appunto conducendo nella fase di campionamento abbiamo fatto anche l'analisi delle malte questa è una cosa molto importante ne abbiamo appunto parlato prima su alcune cose è importante anche perché a volte si può capire ne abbiamo parlato quando si è accionato prima le malte in magnesia che rispondo un po' qui anche alla domanda fatta prima e posta prima a Daniela sì le malte in magnesia sono abbastanza tipiche della nostra zona non sono cose molto strane noi abbiamo dei calcari magnesiaci quindi è molto facile che in una produzione si trovino del magnesio insomma si trovano delle calci magnesie il concetto ricordiamoci è sempre quello di capire se sono sotto forma di un magnesio trasformato ovvero che è stato poi ossidato e poi si è carbonatato come succede per il calcio se invece si trovano ancora nella loro forma cristallina se nel primo caso si è usata una calcia magnesia che se nel secondo caso molto probabilmente stiamo parlando semplicemente dell'aggregato ovvero della sabbia che viene messa dentro e che ha composizione perché nelle nostre valli ce n'è parecchio di calci magnesie che chiamate dolomitiche in maniera tecnica qui si possono vedere alcuni dati da cui si vede che si trova che si trova nel valli di carbonato di calcio e il carbonato di magnesio quindi se è un sale doppio questo qui è una dolomite e la dolomite rappresenta di per sé una parte diciamo di tipo come si dice di aggregato come dicevo appunto prima invece si trova carbonato in calcio e carbonato in magnesio separati come ho detto prima invece rappresenta la parte invece proprio strutturale la cosa un po' particolare che qui potremmo notare è che dallo studio con l'infrarosso con lo spettrottino di materiale con l'infrarosso in teoria con un milligrammo di materiale siamo in grado di avere un'analisi nella diffrazione dovremmo arrivare intorno dal mezzo grammo al grammo insomma giusto perché stiamo parlando di quantità di materiale molto più estese comunque la cosa che è venuta fuori è la presenza di idrossido di calcio e questo è un altro è un punto su quale stiamo ancora stiamo cercando di capire di indagare perché non è quasi pensabile che una malta del 1500 dopo quattro secoli non si sia accarbonatata in maniera totale se si è ancora dell'idrossido di calcio può essere dovuto a vari fattori quali sono i vari fattori beh qui ce ne sono talmente tanti possiamo ragionare per dei secoli innanzitutto l'uso di calci magnesie che favorisce la ritenzione di idrossido di calcio cioè riduce la possibilità che la CO2 dell'aria arrivi fino a carbonatare la parte interna dei materiali questo è una delle caratteristiche che hanno le calci magnesie per cui in molte calci magnesie si è trovata ancora dell'idrossido dell'idrossido di calcio oppure può essere legato al fatto che c'era che c'era che c'era una come dice una forma di troppa umidità e la calce non l'abbia presa questo potrebbe capitare siamo in una zona decisamente molto umida quindi la presenza di molta acqua qui faccio mi tocca fare il chimico scusatemi ma lo faccio in maniera molto amichevole diciamo che noi abbiamo una reazione in cui abbiamo un prodotto che quando è carbonata produce acqua cioè l'idrossido di calcio quando fa presa produce dell'acqua ora se io metto dell'acqua mentre questa si produce io mi trovo a avere troppa acqua quindi il sistema viene un po' bloccato quindi la reazione viene rallentata semplicemente perché perché ho troppa acqua suori non ho più l'ambiente non è più in grado di prendere quella che mi rilascerebbe il materiale mentre devo fare la presa quindi questo potrebbe un'ipotesi non è avallata sto dicendo che sono i discorsi che stiamo facendoci appunto un po' tutto intorno oppure addirittura che abbiano utilizzato anche delle malte idrauliche che possono aver bloccato appunto la traspirazione della superficie con l'interno per far ridurre quindi la possibilità che la CO2 dell'aria arrivi a incontrare l'idrossido di calcio ovvero la calce spenta e con questa faccia appunto il carbonato di calcio qui vedete che ci sono altre diciamo situazioni in cui si vede che qui ci dà una risposta molto più chiara perché troviamo la magnesite quindi troviamo e abbiamo trovato il carbonato e qui significa che abbiamo usato che la calce è molto probabilmente del discorso appunto fatto prima una calce magnesiaca che ci ha permesso e questa danza ci ha permesso quindi di capire meglio anche questa cosa qua ci sono tutta una serie poi di altre considerazioni che possono essere fatte per esempio la grana dell'aggregato come vedete non è molto arrotondata è molto frastagliata il che significa che non hanno preso sabbi da fiume hanno preso sabbi probabilmente da zone o da cava o da zone lì vicine che non sono state chiaramente di fiume questa può essere un'altra parte interessante poi la parte mineralogica e petrografica fatta dai petrografi potrebbe addirittura dire effettivamente più o meno anche il luogo esatto da dove questa questa sabbia possa essere stata presa questo può interessare gli storici più che noi però è un dato che chiaramente noi siamo in grado di avere e di comprendere e qui invece siamo un po' messi a fare degli studi sui prodotti di neoformazione che come vedete fanno parte questa per esempio vedete al centro c'è una foto che rappresenta proprio il piede di un animale con dentro un perno in ferro che si è ossidato e ha fatto scoppiare chiaramente tutto ed è cascato abbiamo campionato tutto quanto sulla sinistra c'è una tabella decisamente poco leggibile di questo ci scusiamo dove però abbiamo messo in relazione a seconda delle altezze in cui siamo andati a fare i nostri prelievi la parte diciamo di umidità presente all'interno diciamo nelle pareti e anche negli oggetti proprio per capire se c'era se l'acqua effettivamente veniva era una ristrita capillare cioè se veniva veramente dal basso o se c'erano delle diversità a vari livelli la fase 4 che è quella che invece stiamo diciamo facendo adesso è quella in cui dovremmo andare a capire come detto dalla composizione delle malte la relazione che c'è con i prodotti di neoformazione dalle condizioni climatiche come queste hanno interagito con i materiali e hanno eventualmente aiutato a produrre dei nuovi prodotti di neoformazione quindi sono stati fanno fatto parte diciamo del nostro problema di conservazione tenete conto che anche l'inquinamento adesso giusto per fare una piccola inciso se ne parla sempre molto siamo però in un ambiente molto molto rurale questo non significa perché basta che che vicino ci sia una fabbrica che produca dei fumi un po' dannosi e può arrivare tranquillamente anche lì come per esempio molti parlano dei nitrati ma i nitrati ormai sono dappertutto ogni volta che voi vedete una fiamma in quella zona si formano nitrati la nostra composizione dell'aria a livello mondiale è fatta di quattro parti di azoto e poi ossigeno insomma ragazzi quindi stiamo parlando di due composti che si formano semplicemente con un po' con il calore sufficiente e con delle condizioni climatiche ovviamente di contorno a temperature quello che sia ma che avvengono quotidianamente quindi la presenza di nitrati oltre che dalla presenza di tipo biologico perché sono portati anche dalle piante che si nutrono di nitrati proprio perché sono materiale molto utile e molto comodo da ottenere nel nostro clima e quindi insomma li si possono trovare tranquillamente un po' più interessante è la presenza invece di solfati però abbiamo visto che c'è una grossa quantità anche di stucco a base di gesso tanto per capire quindi e quindi successivamente unire tutti questi dati allo stato di conservazione attuale a quello che è stata appunto la mappatura delle alterazioni per capire se dobbiamo andare a campionare ancora da qualche altra parte o verificare qualche cosa perché magari qualcosa non è molto chiaro su una statua o su una scultura scusate o su una parte dell'ambiente e quindi poi successivamente dire guarda allora noi abbiamo questo problema qua abbiamo questo clima abbiamo questi materiali abbiamo questi prodotti di una formazione riusciamo a togliere i prodotti di una formazione sì no se riusciamo a togliere interveniamo in questo modo se non riusciamo a togliere dovremmo tenere conto che dovranno restare lì quindi dobbiamo cercare di bloccarli c'è tutta una serie di discorsi molto più complicati sui quali adesso io non entrerei molto nel dettaglio concludiamo il discorso così poi lasciamo un po' lo spazio alle domande se ve ne sono lo studio come detto è ancora in corso quindi la volontà è quella di capire il comportamento lo studio di conservazione non è uno studio semplicemente di analisi ma uno studio di comportamento uno deve capire in base alla composizione in base alle condizioni come il materiale si è comportato e come questa è la cosa più difficile come si dovrebbe comportare come si potrà comportare in funzione di quello che noi andremo a fare ed è veramente è la sfida che diciamo come si usa ormai ultimamente che noi restauratori affrontiamo quotidianamente sulla base poi della scelta dei materiali e delle varie cose e quindi la comprensione delle cause ci aiuta a cercare poi le soluzioni una di quelle l'abbiamo già detta e sarebbe quella di rimuovere quella pozza d'acqua sotto alla cappella e tutto questo è un processo che voi adesso vedete nell'ultima delle nostre presentazioni ma fa parte del ciclo completo cioè parte dall'inizio dalla fase iniziale dall'osservazione anche semplicemente già dire che quella cappella va restaurata è un'analisi è una diagnosi significa che qualcuno ha detto qualcosa che sta male quindi da questa osservazione fino ad arrivare alla parte finale dove la fase diagnostica la fase di analitica può aiutare nella scelta di materiali nel controllare come questi materiali si comportano all'interno dell'oggetto e poi a predisporre dei sistemi di controllo che sono quelli chiamati monitoraggio che poi possono portarsi avanti nel tempo e riteniamo noi che appunto in ogni caso la ricerca del metodo può avvenire solo attraverso l'impiego come avete capito di analisi molto diverse di professioni molto diverse noi fisici gli ingegneri in questo caso gli altri gli elettrochimici o quello che siano tutto quello che volete e che ognuno ha il suo contenuto il suo contributo la conservazione non è una storia di una categoria di professionisti ma è dell'insieme di tutti i professionisti che lavorano per lo stesso obiettivo la conservazione del patrimonio grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti